Il maestro Zubi Meta e il maggio musicale fiorentino incantano Arezzo. Il concerto si è tenuto all'auditorium di Arezzo Fiere e Congressi intitolato proprio in occasione di questo concerto a Guido d'Arezzo. Protagonisti appunto il maestro Zubi Meta, il coro e l'orchestra del maggio musicale fiorentino. E così si inaugura la stagione concertistica a Retina, con una serata, come era facile prevedere che ha registrato il sold out. Grazie a tutti.